E qui richiamiamo in causa le statistiche viste in precedenza per quanto riguarda i passaggi ed i lanci lunghi precisi ne vediamo un chiaro esempio e vi dirò secondo me in un centrocampo come quello della Juve un giocatore del genere Dire che la Juve sta attraversando un periodo particolare è praticamente un eufemismo e ciò si ripercuote anche su quello che il campo vero e proprio se da una parte abbiamo Pogba che chissà e dall'altra parte fagioli che chissà ovviamente la Juve nel mezzo deve trovare una soluzione Negli ultimi giorni si sta parlando insistentemente di Hoiberg da quanto mi risulta anche qui in Spagna ci sono top club interessati ma in questo video, in questo episodio di scouting rapido andiamo dritti al punto e vediamo se può essere effettivamente un calciatore, un centrocampista utile alla causa bianconera come sempre in questo tipo di episodio andiamo dritti al punto, vi faccio vedere al volo qualche dato partiamo dalle statistiche di questa stagione, come vedete dal minutaggio non è un titolare inamovibile nel Tottenham ma per quanto riguarda alcuni dati sicuramente possiamo prestare attenzione ad esempio ai passaggi dove abbiamo una media di 70 passaggi praticamente per partita con un'ottima precisione 88.1% di passaggi accurati, quindi da quel punto di vista sicuramente la Juve può pensare di portare a casa un centrocampista che dà un contributo tecnico importante che approfondiamo ovviamente successivamente occhio anche ai lanci lunghi, 6.29 in media per partita, 76.9% di precisione, anche lì ottima roba, ho già sentito tecnica impressionante, portiamo a casa se possiamo questo calciatore perché dribbla, dribbla, dribbla sì, dribbla, ora in media 2.42 dribbling in media per partita, durante tre partite ad esempio manco ci ha provato 60% di successo, tanta roba, sì, però occhio non dribbla chissà quanto, quindi questi euforici per quanto riguarda i dribbling di Hoiberg qualcosina in meno secondo me occorre aspettarsi. Per quanto riguarda i duelli difensivi vinti, anche lì ho sentito farà filtro a centrocampo, sì, non è un giocatore pigro però anche qui duelli difensivi, 3.39 in media per partita 42.9% di successo, quindi anche lì io mi aspetterei un giocatore più tecnico che fisico e difensivo quindi occhio anche da quel punto di vista. Ad oggi 0 gol e 0 assist ma vediamo ad esempio quello che è stato il contributo in una stagione intera, quella passata, dove il contributo del ragazzo è stato il seguente. 4 gol, 4 assist vi anticipo che è un giocatore che tende ad arrivare nell'area avversaria e spesso e volentieri è capace di concludere in maniera positiva anche la manovra. Accadrà lo stesso nella Juve di Allegri? Vedremo, sicuramente ne parleremo mantiene alta la percentuale di passaggi precisi durante quello che è l'arco di un'intera stagione anche per quanto riguarda i lanci lunghi, precisione anche qui che si ripete, quindi attenzione perché io dal punto di vista tecnico mi aspetterei un giocatore che sicuramente può dire la sua e vi dirò, secondo me in un centrocampo come quello della Juve un giocatore del genere serve ma scendiamo nel dettaglio, tecnicamente un giocatore pratico che va dritto al sodo in questo esempio lo vediamo lì nel cuore del centrocampo, ricevere palla, smistare di prima il tocco di prima a me di Oiberg piace in particolar modo, mi piace il movimento senza palla ricercare questo tipo di situazione, tutto ciò ve lo faccio vedere come sempre in questo esempio vedete lì combattere, primo passaggio di nuovo pratico, va dritto al punto, mi piace va a riprendere questa palla, tocco di prima, insomma giocatore utile per far girare la squadra in un certo tipo di modo. Ma di nuovo per quanto riguarda la creazione di opportunità per andare a ricevere la palla, anche qui un giocatore che dal punto di vista psicologico a me piace perché è presente nel gioco, si muove come già detto e come già visto per ricevere questa palla e a me piace, qui ripeto parlo di psicologia pura per quanto riguarda le scelte che fa perché occhio non sempre mette a segno il colpo per quanto riguarda la scelta ma secondo me tende ad essere un giocatore leggermente sopra la media qui lo vediamo di nuovo prendere una palla, spostarsi in avanti, poi trovare spazi chiusi e di nuovo compiere, secondo me la scelta giusta, lo vediamo vi anticipo che sarà un passaggio all'indietro, qui bravo a creare l'opportunità poi però spazio chiuso e si rintana di nuovo nella zona difensiva un centrocampista capace di andare all'indietro, so che non va di modo il passaggio all'indietro ma a volte meglio un retropassaggio rispetto ad una giocata forzata ed ad una palla persa quindi da quel punto di vista Hoiberg devo dire che mi piace e ragazzi se anche voi non volete perdere l'occasione nel momento in cui questo fosse il vostro obiettivo di entrare nel mondo del calcio, come sempre vi ricordo che abbiamo gli ultimi posti per i corsi del prossimo mese per quanto riguarda le figure del match analyst, dell'osservatore e del data analyst come sempre formazione, accesso ad offerte di lavoro nel mondo del calcio, accesso a programmi professionali tutti i link qui in basso in descrizione ne ho approfittato così al volo, grazie Hoiberg per lo spunto ma passiamo alle capacità tattiche del ragazzo perché anche lì tocchiamo un tasto importante sì, bravo tecnicamente, bravo nel passaggio, gioco di prima, lanci lunghi bravo secondo me per quanto riguarda le decisioni ma tatticamente, come lo collochiamo? anche qui un giocatore secondo me utile perché può giocare come mediano basso ma io lo vedo comunque come mezzala lo preferisco in quel ruolo lui, di nuovo, lo vediamo capace in questo esempio di trovare lo spazio adatto lo abbiamo già detto e mi piace anche per quanto riguarda l'andare ad alzare la testa per proiettare la manovra in avanti prima abbiamo visto, spazio chiuso è capace di prendere la decisione giusta ma è un giocatore timido quando ha spazi più aperti come in questo caso, secondo me assolutamente no e qui richiamiamo in causa le statistiche viste in precedenza per quanto riguarda i passaggi e i lanci lunghi precisi ne vediamo un chiaro esempio in questo caso quindi ragazzi, in questo episodio di scouting rapido tiriamo una conclusione può essere Hoiberg un giocatore adatto alla Juve? secondo me assolutamente sì qui ragazzi vi risparmio la parte dei difetti, dei punti di debolezza ne riparleremo nel momento in cui il ragazzo dovesse arrivare effettivamente alla Juve ripeto, da quanto mi risulta c'è della concorrenza quindi vedremo ma come sempre questa è solo e soltanto la mia analisi vi aspetto qui in basso nei commenti per conoscere le vostre letture questo episodio di scouting rapido finisce qui come sempre spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like e condividetelo se vi va è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi un salutone e dal prossimo appuntamento e lo seguo dal 2015-2016 sempre piaciuto visto meno durante le ultime stagioni però a me piace grazie grazie Grazie.